ho rotto le scatole perché volevo provare il ribaltabile adesso vediamo non l'abbiamo mai fatto vediamo se si alza allora non abbiamo trovato le sue spine originali quindi dovremmo provvedere tac fatto solamente per una prova perché altrimenti un bullone un dado non sarebbero niente però dai che si può provare non 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 Eccolo ragazzi funziona veramente forse Eccolo ragazzi Non avendo le spine adatte non lo abbiamo sollevato del tutto per paura di fare qualche piccolo danno comunque si funziona quindi un'altra optional in più per questo CM52 truppa del genio Grazie